I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Bari Centro della stazione di Bari San Nicola hanno arrestato una 64enne incensurata e impiegata presso un ufficio postale del Sud Barise perché accusata di utilizzo in debito di carta Bancomat e prelievo il lescito di denaro ai danni di un'anziana signora di 73 anni. La donna, dopo aver ricevuto da un'anziana cliente la tessera Bancomat, ha effettuato una prima operazione di prelievo all'insaputa di quest'ultima. Ha riposto la somma prelevata di 485 euro sotto il banco di lavoro della sua postazione avendo cura di gettare nel cestino la relativa ricevuta testante l'indebita transazione per poi trasferire il denaro all'interno della propria borsa custodita nell'armadio alle sue spalle. Subito dopo l'impiegata ha reinserito la tessera nel post per effettuare l'operazione effettivamente richiesta un prelievo di 1000 euro dal quale stornare la somma di 485 euro per il pagamento di alcuni bollettini incurante del fatto che avrebbe dovuto fare i conti con le telecamere installate dai carabinieri che hanno costantemente monitorato tutte le fasi della vicenda. Al termine dell'attività lavorativa la 64enne è stata immediatamente sottoposta a controlli dei militari operanti. La successiva perquisizione personale ha consentito di rinvenire e sequestrare il contante asportato. Oltre ad una copiosa documentazione rinvenuta in ufficio, consistenti ricevute, strati conto, libretti e tessere bancomat intestate a persone terze in corso di identificazione tutte potenziali vittime dell'impiegata. Le ulteriori verifiche presso l'ufficio postale hanno rivelato altri due recenti casi di prelievi abusivi commessi dalla donna sempre a danno della stessa anziana vittima. La 64enne su disposizione dell'autorità giudiziaria è stata posta agli arresti domiciliari. I carabinieri che hanno ottenuto la piena collaborazione da parte di poste italiane continuano intanto i loro accertamenti a fine di verificare se la condotta della donna rappresenta o meno un caso isolato.